Una lezione durissima, è una sconfitta chiara, netta, che imponeva anche delle decisioni altrettanto chiare e altrettanto nette. Anche alla luce delle dichiarazioni del segretario nazionale che ha preso atto della sconfitta e che quindi si è dimesso, mi è parso assolutamente coerente, ragionevole ed improrogabile dare per mia parte le dimissioni della segreteria nazionale. Una scelta di coerenza, quella della Sarra Chiani, che lascia così la segreteria nazionale del PD, ma viene comunque eletta alla Camera grazie ai cosiddetti scarti del voto nel collegio dominato da Renzo Tondo. La governatrice, peraltro, è il secondo candidato del centro-sinistra, dietro solo al premier Paolo Gentiloni, che ha avuto l'effetto positivo maggiore sulla coalizione con l'11,8% di coefficiente di incidenza. Gentiloni ha totalizzato il 16,5%, terza la Bonino con l'8,7%, banalizzando l'effetto dei tanti che, pur mettendo una crocetta sul nome Sarra Chiani, non hanno votato il PD. Vanno ringraziati i tanti che mi hanno sostenuto e supportato in questa campagna elettorale, i tanti che mi hanno votato, ma anche i tanti che hanno creduto in questo progetto. Insomma, alla fine il lavoro fatto per Trieste, anche se non ha pagato nel risultato finale nel collegio, è stato però un lavoro importante. Il porto, le infrastrutture, tutto quello che abbiamo fatto per la solidarietà anche di questa comunità, penso alla misura attiva di sostegno al reddito, alla misura attiva di sostegno alle famiglie. Ora però la sua voce non potrà mancare nella disamina interna la coalizione di centrosinistra in vista della necessaria riteratura per le regionali, che sono ormai dietro l'angolo. Beh, intanto attendiamo che la coalizione centrodestra sciolga qualche nodo, così come anche il Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra credo che sia però evidente che è una centrodestra ormai evidentemente a trazione leghista, che sostanzialmente si è mangiato un po' tutto l'elettorato di Forza Italia. Noi avremo le nostre questioni da affrontare, ma abbiamo un candidato in campo, un programma già definito e la costruzione della coalizione che si sta perfezionando.